Gentili telespettatori, buona giornata. Dal 1992 in Italia si ritiene siano rimasti due poteri forti, la magistratura e la presidenza della Repubblica. In realtà dopo, col tempo a questi due poteri forti, magistratura e presidenza della Repubblica, si è aggiunta l'Unione Europea e i cosiddetti mercati, mercati economici, che sostanzialmente hanno dettato legge a Parlamento e governi di tutta Europa. Quindi magistratura, presidenza della Repubblica, Unione Europea e i mercati, l'economia, la pecunia, il denaro, il denaro detta legge. In questo fine secolo scorso, inizio di questo nuovo, chi il padrone è il denaro? Beh, in questi ultimi anni si fa fatica a vedere quella sovranità che appartiene al popolo, come dice la nostra Costituzione, tramite ovviamente i suoi rappresentanti eletti, ma questi rappresentanti eletti riescono veramente a mettere in atto tramite di loro questa sovranità del popolo, beh, le Costituzioni nazionali legittimano intanto questa Unione Europea. Possiamo dire che ci siamo ritrovati con un paese autoritario, un esecutivo forte, una sovranità sospesa per il momento. Ecco, ad esempio, secondo molti filosofi italiani, ad esempio come Cacciari e tanti altri, ritengono che i partiti si sarebbero autodisciolti in obbedienza alla cultura dominante. Oltre ai poteri forti che abbiamo menzionato prima, c'è un altro potere forte, che è il pensiero unico, spalleggiato dal politicamente corretto. Politicamente corretto e pensiero unico. Sono due binari che viaggiano paralleli, ma uniti da quelle traversine di legno. Beh, abbiamo visto che il politicamente corretto e il pensiero unico hanno adottato in tutto il mondo una censura. Attualmente c'è una censura che è la stessa degli anni venti, del secolo scorso. censura su tutto. Tu puoi dire cose solo se sono all'interno di questo fiume che è il pensiero unico. Se tu esci fuori dal pensiero unico, vieni cancellato. Anche se dici mezza cosa vieni allontanato dall'ingranaggio della comunicazione. Quindi ai poteri forti che c'erano prima si aggiungono questi. Il pensiero unico, il politicamente corretto. I partiti si autodisciolgono in obbedienza alla cultura dominante. Ed era proprio questo che Matteo Salvini aveva sollevato questo problema a proposito della delega sulla riforma del Catasto, venendo peraltro seppellito dal solito disprezzo dei media e degli altri partiti. Ma erano problemi che aveva sollevato anche il segretario della CGL, Landini, senza ovviamente ricevere lo stesso strattamento riservato a Salvini. Lo stesso capo della Lega dichiarava a Repubblica c'è un serio problema di metodo con Draghi, inaccettabile confrontarsi solo quando è stato già deciso tutto. Lui decide, bisogna eseguire, poi bisogna andare da lui a cercare un compromesso che non c'è, ma bisogna farlo per l'elettorato. L'elettorato va che vai a parlare con Draghi, allora l'elettorato forse continua a stimarti. Ma sei tu che vai da Draghi, dopo che Draghi ha già deciso e che tu vada o non vada da lui non gliene frega assolutamente niente. Un problema di metodo. Draghi, l'accentratore, l'esecutivo forte, la sovranità sospesa. Questa sovranità sospesa, questo gioco delle parti in cui un governo forte cerca di riequilibrare contro i poteri forti che parlavamo prima, l'Europa, i mercati, il politicamente corretto, il pensiero comune. Di solito uno pensa che i poteri forti siano una fabbrica forte, un'azienda. I poteri forti a volte sono intangibili, politicamente corretto. I mercati. I mercati hanno consistenza? La Borsa Valori di Milano, sì, c'è un edificio, ma è tutto telematico. Pertanto la situazione odierna è di una politica specchio di una società mediocre, una politica mediocre che si è auto sciolta, sparita a favore di un nuovo modo di fare governo, dell'uomo forte, il governo forte. Il governo forte che cerca poi di contrastare o andare a braccetto con quei poteri forti che avevamo visto prima. Quindi è un potere che comunque la Lega cerca di affiancare, di continuare a sostenerlo. Beh, un discorso abbastanza complesso che potrebbe andare avanti, no? Le implicazioni della svolta autoritaria dello Stato italiano. Ma tutto va secondo la democrazia. C'è la ratifica parlamentare, c'è la libertà di stampa, di critica. Ma la sostanza è quella di una democrazia illiberale. Non liberale, ma una democrazia illiberale. Dove tu sembra, dove tu sembri libero di poter dire, fare, eccetera, eccetera, ma sei dentro una corrente, una corrente unica, un pensiero unico, il pensiero dominante, una società dominante. Avete visto che in televisione o da altre parti voi dovete dire quello che dicono tutti gli altri, se no non vi invitano più in televisione. Se siete dei conduttori vi cacciano, come era successo a Mario Giordano. Fai quello che diciamo noi, se no non va bene. Vabbè, il discorso poi è molto più lungo. Arrivederci a tutti e grazie.